Siamo con Iozzino, giocatore del Rogit, innanzitutto complimenti. Grazie. Iozzino oggi è una partita che vi ha permesso di passare al turno successivo della Coppa e soprattutto vi ha permesso di tornare a vincere in casa, anche se per 2-1 con qualche difficoltà nel finale. Ha praticamente scacciato i brutti pensieri che si erano creati nel risultato di 1-1 con Melilli. Stiamo combattendo contro la sfortuna da inizio stagione. Ogni settimana abbiamo almeno 2-3 infortunati, stiamo giocando in 5-6, praticamente è la prima giornata. Cerchiamo di recuperare qualcuno ogni giornata e puntualmente se ne fa male un altro. Adesso dobbiamo andare avanti, vincere tutte le partite senza fare calcoli. Per noi ogni partita è una finale, da ora in poi. Vogliamo e dobbiamo andare avanti in tutte le competizioni. Abbiamo scelto te da intervistare oggi soprattutto perché hai fatto il lavoro sporco, non hai segnato però sei stato il migliore in campo. Non hai fatto passare davvero nessuno della polisportiva, soprattutto nel finale di gara, davvero decisivo nei tuoi interventi. Non mi importa segnare, il bene della squadra è quello che guardiamo tutti quanti. Oggi questo mi ha chiesto il mister e ho fatto quello che mi ha chiesto. Mi chiede di fare l'ultimo, a volte mi chiede di fare il pivot, a volte di fare il laterale. Dove mi chiede di lavorare io lo faccio. Grazie mille, davvero buon proseguimento per la stagione. Grazie a voi.